I Tenerissimi, I Tenerissimi Scopriamo insieme il meraviglioso mondo degli animali e dei loro cuccioli con I Tenerissimi, la nuova raccolta di Agostini. Ci sono le schede sugli animali, lo scenario con gli attacca e stacca, un fantastico microlibro e tante storie sui Tenerissimi nella videocassetta. In edicola la prima uscita a sole 2.900 lire e con video a sole 12.900 lire. I Tenerissimi, una grande proposta di Agostini Junior.